Musica Bentornati sul canale di Devi Ragazzi IS6 E' doveroso ricordare ogni tanto la potenza di questo carro Quindi gameplay sul carro premium sovietico Siamo nella mappa, non mi ricordo più Bellissima, fortezza, predominio, 3 punti di cap Avanziamo da questa parte Sono abbastanza sicuro che ci sia un carro amico Che sta aspettando la mia torretta Allora, cerchiamo di capire un attimo Sì, sì, tranquillo, tu ricarica che io spavo Vai Vai, tranquillo, tranquillo Anche se ci sparano non ci fanno niente Giochiamo con questa convinzione, vai Vai, vai Così, bravissimo Vi ricordo nel frattempo che trovo la mia vittima Canale Twitch, pagina Facebook Condivisioni, mi piace Sempre importantissimi per Aiutare il canale a crescere Allora, c'è qualcuno sulla sinistra Però gli SS non lo sa e lo ignora Quindi dobbiamo continuare a salire Vai, vai, tranquillo, tu Il segreto è andare sempre Non bisogna mai fermarsi Allora, adesso facciamo una manovra di accerchiamento Ottimo così Vediamo un attimo Aspetta, aspetta Fammi salire Ferdinand Ci stava un Ferdinand Buono Rapida occhiata Eccolo Eccoti Guarda, guarda, guarda Fa finta di non capire Colpo critico Stai scherzando il critico Mi devi dare la kill Mi devi dare Dammi la kill Non rompere Proviamo un tiro nuovamente in torretta Vai Bravo così Sì Una kill per Devi Grande Avete visto La manovra di accerchiamento di Devi Stanno catturando Charlie Però noi Ce ne freghiamo altamente Punto primo Punto secondo No Sì No Volevo farla io Mannaggia Torniamo su Charlie Dai Tu coprimi le spalle Fai qualcosa di utile Bravissimo così Non dovrebbe essere molto lontano Perché comunque Charlie Come vedete È sotto assedio Ci sarà almeno un carro Potrebbe essere il Ferdinand di prima Non sono sicuro Non sono sicuro però Vai 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 In velocità Speriamo che non ce ne sono qui Aiuto Tutto calcolato Ok Cacciacardi Adesso ci prendiamo Una easy kill Guarda la easy kill Di Devi Guarda guarda Stai guardando tu a casa Ok Bravo 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 Ok Avanza Fammi capire un attimo Dove sei però Sei da queste parti Sì Buono Ottimo Aiuto Tranquilli Non mi ha visto Sì Grande colpo Nel lato Massacrato Volevi Guarda guarda Volevi scappare Fa finta di non capire Vieni qua che Ti penetro No fuoco di artiglieria Non puoi No 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 Una kill Per Devi Grande Aspetta Aspetta Perché c'è Spero che non ci sia Nessun altro Non sta succedendo Davvero Vero Davvero Vero Ok Guarda 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 Non ci credo No Questa la pubblichiamo Sì Però Devi far Devi darmi la kill Porca miseria Peccato Guarda Mi fa davvero pena Perché non può fare niente Sta anche bruciando Non ha l'istintore Quanto mi dispiace Dammi la kill Aspetta Fammi respirare Perché altrimenti Qui Guarda 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 Ah Ce l'hai la cosa Però l'istintore Boom Baby Sono tre Nel giro di Di tre secondi Aiuto C'è qualcuno No T44 Ragazzi Direi di cappare Però Ho un presentimento Che mi dice Guarda A sinistra Che ora C'è qualcuno Chiederei Un piccolo Rinforzo Perché mi Mi vedo solo Mi vedo Completamente Solo Da questa parte Ok Grazie Non so Chi Tu sia Però Dove sta il punto di cappa Ah ok Perfetto Scusate Scusate Mi ero scordato Che non è più Diciamo Tra quelle Costruzioni Ok Cerchiamo di bloccare Il cap Fatto Cerchiamo di cappare Abbiamo il punto Di alfa Allora Loro possono venire Da due parti Ecco appunto Poco di artiglieria Porca miseria Che cavolo è stato Maledetto 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 Mi ha distratto Quel Cavolo Di aereo Schifoso M46 Ti piace Così Eh Va bene Porca miseria Ti butto una bomba Che Guarda guarda Vieni qua Bomba Da 5000 Proprio esattamente Sulla testa Direi che la partita Verrà persa Perché comunque Abbiamo Zero punti di cap Loro sono Incazzati neri Stanno cappando Stanno distruggendo Tutto E tutti L'unica cosa Che possiamo fare È cercare di fare Una piccola kill Piccola L'ideale sarebbe Sulla M46 Per Vendicarci Però è un po' Complicato Abbiamo Una sola Possibilità Rappresentata Dalla bomba Da 5000 La bomba Più grande Del gioco Però il problema È che Ecco appunto Non è facile Individuare Ecco Fammi dare Un'occhiata No No Che cosa ha detto Aspetta Forse è lì Sì Eccolo Eh no Ma se la lancio Non lo beckerò mai Tenti Non rompere Non rompere Le scatole Eccolo 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 No Non ce la faccio più Dove stai Scusa Dove stai Che rompi Le scatole Miseria Nessuna torretta Operativa Ragazzi Mi sta Letteralmente Massacrando Abbiamo perso Un motore Ottimo Il bello Delle realistiche Non lo vedo Però Non lo vedo Non ho avuto L'opportunità Di sganciare La mia bomba Purtroppo Vediamo Se riesco a virare Però la vedo Piccidissima Con tre motori E uno Mezzo servizio Uno è andato Ogni volta Che veniva Sentivo Dei cannoni Che mi sparavano Sopra Aspetta Perché stiamo Catturando Alfa Bravo Per assurdo Possiamo vincere Per assurdo Non abbiamo Velocità Non riesco a virare No Ce la faccio Poi C'è miseria Bravissimi Eccolo L'ho visto L'ho visto L'ho visto L'ho visto Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Non ce la faccio Dai Ce la devo fare Ce la devo fare Ce la devo fare Destra 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 Vai 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 Staventando Da quella parte Eh no No Mettiti Come dico io No L'ho sganciata Come va Niente Ragazzi Purtroppo La bomba Non va Dove Dovrebbe andare Torniamo Sì Una kill per devi Panther 2 Distrutto Grande L'ho beccato In pieno Con la bomba Da 5.000 Ovviamente Lo sapevo Che l'avrei beccato È una cosa Ovvia Una cosa Ovvia Olio surriscaldato Sì 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 Una kill per devi Grandissimo Un'altra kill per devi Che è lo stesso Di prima Quello lì Del Panther Stava provando A vendicarsi E invece No Ti ho distrutto Di nuovo Lo vuoi capire Che non è per te Questa partita Abbiamo perso Un altro motore Nel frattempo Ce la possiamo fare Due motori Questa scena L'ho già vista Due motori Uno Praticamente Andato Dai Quando finisce La partita Dai Porca miseria Eh Si torna alla base Guarda Non sarei molto convinto Sinceramente Con due motori Anzi Con un motore e mezzo La vedo un po' difficile Ragazzi Vediamo I risultati Posto scontro Abbiamo guadagnato Nonostante la missione Fallita 41.000 Crediti E abbiamo messo a segno Soccorritore di Carti per uno Di carri Ho detto Carti Con un colpo Professionale per 5 Serie di attacchi Furtivi per 5 La squadra migliore Colpo finale E vai Ago della bilancia Bene ragazzi Il video finisce qui Vi invito come sempre A iscrivervi al mio canale In modo tale Da non perdere Nessuno dei miei aggiornamenti Non ho più voce Ci vediamo alla prossima Ciao Non ho più voce Non ho più voce